Il 16 luglio sbarca in piazza del Duomo a Grosseto il campionato italiano Pesi Leggeri, la manifestazione organizzata dalla box Rosanna Conti Cavini in coorganizzazione con la pugilistica grossetana Umberto Cavini e il comune di Grosseto. Match clou della serata sarà quello che vedrà protagonista il campione in carica dei Pesi Leggeri, il livornese Vai Rolenti e il triestino Luca Maccaroni. Grazie a Rosanna Conti Cavini e a Umberto Conti Cavini ha avuto sicuramente una grande storia, noi siamo rinomati per il baseball, per il pugilato e rivedremo presto un'altra grandissima serata all'insegna dello sport con grandi campioni, ci sarà un campionato nazionale dei Pesi Leggeri. Ci aspetta un grande spettacolo perché sarà un titolo italiano combattuto fino alla fine, noi conosciamo il valore del nostro pugil, di Vairo, so quanto è preparato, quanto si è allenato, veramente può fare 20 riprese invece di 10. Sono veramente al top, ci siamo preparati benissimo per questo match, già l'altra volta quando l'ho conquistato ero messo bene ma questa volta davvero abbiamo superato ogni limite. E quello di quest'anno sarà un evento particolare che vede il quarantesimo anniversario di attività della promoter internazionale Rosanna Conti Cavini. L'unica cosa veramente che è nel cuore è che non c'è Umberto, non c'è Umberto ma comunque sia tutto questo che sto facendo e che stiamo facendo lo facciamo esclusivamente per Umberto, Umberto non ci sarà fisicamente ma ci sarà sempre vicino a noi, specialmente in questa piazza. Grazie a tutti.